Ha perso tutto l'allevatore di Collesano, Rosario Castiglia, 37 anni. Ha perso tutto a causa di un incendio, un incendio che è partito da Scillato e ha raggiunto Collesano. Uno dei tanti incendi che si stanno registrando in questi giorni in Sicilia. Rosario ha perso 70 bovini, lui è un allevatore, 25 è riuscito a salvarli. E' disperato, piange, lo sentirete tra poco al nostro microfono, ha perso i sacrifici di una vita, i sacrifici della vita di suo padre che gli ha lasciato in eredità questo allevamento. Gli agricoltori si stanno mobilitando per aiutarlo con delle collette, sul posto anche l'imprenditore agricolo di San Cataldo, Giuseppe Scarlata, che tra poco sentirete, ma non basta, deve intervenire la politica, basta proclami su Facebook, la politica deve darsi una mossa. Non solo per scongiurare gli incendi, ma deve anche intervenire per altri problemi burocratici. Ad esempio, Rosario, come tanti agricoltori che hanno perso tutto a causa degli incendi, rischia di perdere i contributi della comunità europea, i contributi ACEA. Questo perché? Perché i contributi verranno bloccati, probabilmente come spesso è accaduto, perché Rosario non ha più il bestiame che invece ha dichiarato nei registri aziendali. Questo è assurdo perché il bestiame non c'è più, ma non per causa sua. Sentiamo adesso queste interviste. Vedrete delle immagini pesanti, ma è la realtà. Si è fatto vivo qualcuno a livello di istituzione, politica, qualcuno che vi ha chiesto se è avuto bisogno di aiuto? Allora, fino a oggi, qua, almeno su Collesano, almeno per me, non mi risulta. Come aiuti non c'è nessuno, anzi ci sono degli amici agricoltori che ci vogliono aiutare, mandare fieno, mandare tutto, ma come istituzioni zero, tagliato. Non so come ripartire, perché non c'è più niente di quegli aiutare, ma non sono degli amici, ma non ho neanche la capacità più di andarli a comprare, perché non abbiamo una situazione economica da lusso, perché dopo una perdita di questi, come fai, da dove andavo a ricominciare, perché ora ci vuole aiuto sul fieno, paia e tante altre cose. Qua è qua, pure una zona molto svantaggiata, perché non solo pascono le nostre mucchi, pur dai, cinghiali, qua, non so da dove ripartire. Sono perso, come perdere la seconda volta a mio papà, che ha da cinque mesi che non c'è, le mucche erano come stare vicino a mio papà, erano una selezione, tutta una selezione, da anni, 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 arrivare a un certo punto, da avere questo bel capo di bestiame, ma ora non è più, sono rimaste solo 25 mucche, ma non c'è più. L'auspicio che gli agricoltori chiedono è solo una cosa, che oltre al danno non si aggiunga la perda, perché ora noi sappiamo come funziona tutto l'iter per quanto riguarda i contributi a CEA, possibilmente le aziende si vedranno i contributi bloccati, perché non per colpa degli agricoltori allevatori non hanno più il carico bestiame che hanno dichiarato nei registri aziendali. Allora la politica, molti sui social hanno dichiarato solidarietà agli agricoltori, bene, la solidarietà aiuta, ma servono i fatti concreti. I signori dentro gli uffici cominciano a sbracciarsi e cominciano seriamente a intervenire per dare aiuto a queste persone. Qua c'è gente che è arrivata alla disperazione totale. Può capire solo, io sono un allevatore, riesco a immedisimarmi in quello che vedo, però purtroppo noi con tutta la solidarietà che possiamo dare, nelle nostre zone, ringraziando tantissimi amici, si sono già attivati per far arrivare carichi di paglia, fieno, foraggi, gente che è nel bisogno e alluta altri bisognosi, però che la politica sinceramente, seriamente... Presidente Musumeci, dio un segnale che la regione siciliana ha ancora un presidente, vede che cosa deve fare, signor Presidente, non solo a chiacchiere, perché i chiacchiere li sanno fare tutti, venga in questi territori, chiami gli allevatori, non per speculazione per la futura campagna elettorale, immediatamente vedete quello che c'è da fare, intervenite con le deroghe su fascicolo aziendale, su Bruxelles, non lo so, fate arrivare aiuti straordinari, non aggiungete danno al danno già esistente.